carissimi amici e amiche ben ritrovati per una nuova puntata del ciclo di catechesi dedicato ai vizi e alle virtù oggi terminata la trattazione della virtù cardinale della giustizia andremo di nuovo a passare sul versante del negativo del vizio e parleremo del vizio capitale dell'invidia con l'aiuto del signore un vizio che certamente si trova anche in come dire in opposizione alla giustizia perché l'invidia brama di prendersi in una delle sue sfaccettature qualcosa che non è suo mentre come abbiamo visto la giustizia brama dare a ciascuno il suo è proprio esattamente il contrario ne parleremo in questa trattazione anche perché come è noto e come vedremo il vizio capitale dell'invidia disgraziatissimamente presenta anche tra le sue figlie vedremo un peccato contro lo spirito santo che l'invidia della grazia altrui uno dei sei peccati contro lo spirito santo e per cui la trattazione di questo vizio capitale è evidentemente particolarmente importante oltre che delicata introduciamo subito questo tema dicendo citando un un notaforisma di un antico politico di cui preferiscono fare il nome che diceva era un politico cattolico e che diceva che l'invidia è un peccato che molti cattolici commettono ma che quasi nessuno confessa io ovviamente questo lo posso confermare con la mia esperienza di di confessore fermo restando che oggi la penitenza è un sacramento oltremodo in crisi nel senso questo lo dico anche come sprone e come incentivo a chi dovesse ascoltare questa piccola conversazione fraterna e ascoltare delle buone confessioni oggi è una cosa abbastanza rara non è non è molto frequente specialmente in chi non ha alla base alle spalle un certo cammino diciamo così di di conversione e santificazione già in atto eppure l'invidia per esempio è proibita positivamente come è noto da un precetto del decano conosce dal decimo comandamento che non desiderare la roba d'altri che dal luogo come vedremo ad una delle forme del vizio capitale dell'invidia un peccato quindi che molti cattolici commettono ma quasi nessuno confessa magari non si confessasse soltanto l'invidia sono molti oggi peccati commessi ma non confessati perché non riconosciuti come tali non sempre per quella situazione gravemente peccaminosa che appunto il rifiutare di riconoscere che una cosa è male purtroppo oggi molte volte le anime non sono più capaci quindi di avvertire la coscienza del peccato perché sono completamente intorpidite da un mondo non voglio fare insomma i discorsi un po' retorici però in parte è inevitabile che sia così io vedo constato osservo anche persone che avevano cominciato bene un qualche una qualche forma di itinerario appena allentano un pochino le le briglie le redini vengono completamente risucchiate ecco non non è proprio possibile resistere non si può competere con il male dilagante in maniera molto molto consistente nel mondo attuale a meno che non si abbia un tasso di elevato di vita di grazia peraltro però costantemente custodita e mantenuta il grande scoglio sta sempre in questo secondo punto costantemente custodita e mantenuta perché se purtroppo questo viene a mancare si rimane in qualche modo risucchiati dal vortice io veramente delle volte guardo mi guardo intorno vedo proprio una mi sembra proprio una marea di fango una sorta di sabbia mobili globali in cui è facilissimo anzi sembra quasi inevitabile per certi aspetti impantanarsi quindi ho avuto modo di dire tante volte per chi ci crede ma tanto anche chi non ci crede se non crede alla madonna mi vorrebbe da dire creda almeno al diamono per sopravvivere in questo mondo così corrotto ci vuole una terapia spirituale elevata chi crede a meggiugorie saprà che la madonna meggiugorie ha chiesto a livello quotidiano di recitare tutti i giorni il rosario intero e la messa quotidiana io dico sempre insomma se uno lo fa per dire al rosario intero almeno dei tre misteri tradizionali se uno non vuole essere così zelante da aggiungere anche il quarto ma almeno i tre misteri tradizionali non ci devono arrivare ci vuole un'oretta ci vuole e la messa per viverla decentemente con un minimo di preparazione un minimo di ringraziamento ecco qualora si tratti di una celebrazione insomma media però comunque ci vuole un'altra oretta per la verità sarebbe richiesta anche un po' di meditazione quotidiana un quarto d'ora confessione frequente preferibilmente settimanale minimo mensile e poi ascesi digiuni molti può pensare una cosa una roba di questo genere che sia un pochino eccessiva mamma mia o perché questa è rivolta a tutti non è rivolta soltanto a preti suori e frati ma a tutti ora chi non credesse alla facoltà di rifarlo evidentemente perché fino a quando la chiesa non si pronuncia è possibilissimo io cerco sempre di essere molto rispettoso devo essere anche come ministro di Dio evidentemente molto rispettoso di chi la dovesse pensare diversamente però appunto prima accennavo scherzando ma neanche troppo un po' che chi non crede alla Madonna creda al diavolo io personalmente l'esiti tanti anni fa su un libro di Vincenzo Speziale il fumo di Satana nel Tempio Santo di Dio insomma parlava era un commento a quella famosa frase che disse Paolo VI mi pare nel 72 nel 74 che da qualche parte il fumo di Satana è entrato perfino dentro il luogo santo di Dio non è più un mistero 50 anni dopo però dentro questo testo si vedevano dei resoconti anche da qualche esorcismo voi sapete che bisogna fare certamente attenzione con il materiale proveniente da queste fonti ma esorcisti di fama adesso mondiale io conosco bene padre Francesco Bamonte che ha scritto un bellissimo libro La Vergine Maria del Diavolo negli esorcismi riportano quello che in certe circostanze il nemico optorto collo contro la sua volontà ma perché costretto dalla divina volontà e per la nostra edificazione deve dire e io ricordo questa è una cosa che ho messo tantissimi anni fa ero giovanissimo quando ho letto questo libro qui forse ero seminarista ma forse addirittura prima ancora di entrare in seminario adesso non mi ricordo si leggevano queste testuali parole questi sono i nostri tempi noi siamo scatenati nessuno può farla franca con noi a meno che a meno che non vada a messa e faccia la comunione tutti i giorni e reciti rosario intero tutti i giorni solo in questo caso noi non possiamo fare adesso non mi ricordo la citazione alla lettera ma il senso è questo male rilevante a questa persona cioè non è che non ti fa niente qualcosa si ma poco grossi danni no è chiaro che dicendo una cosa di questo genere che cosa sta dicendo indirettamente c'è il detto ma c'è anche il non detto c'è l'implicito che chi non si blinde a questo modo è soggetto alle incursioni satani è inevitabile questa è una premessa che non era prevista ma mi è avvenuta forse sarà utile a qualcuno che ascolterà questa catechesi bisogna sempre capire che in tempi particolari non ci si può regolare come se non fossero tempi particolari in tempo di guerra tra gli abitanti del consorzio umano c'è uno stile di vita e un'organizzazione diversa dal tempo di pace è chiaro perché in me non sarebbe tempo di guerra e questo per noi figli di dio è tempo di guerra perché c'è il avversario svester diabolus che da sempre quindi il nostro nemico il diavolo da sempre scriveva già San Pietro va in giro cercando di divorare ah ma adesso proprio sta in stato di scatenamento assoluto e quindi come facciamo a difenderci e dobbiamo difenderci allora torniamo a questo vizio capitale non casualmente è stato nominato il diavolo perché sappiamo bene che l'invidia è il vizio è uno dei vizi luciferini per antonomasia perché la superbia e l'invidia hanno caratterizzato il peccato angelico quindi Lucifero ha bramato ciò che non era suo lui voleva diventare come Dio questo vizio questo quinto vizio capitale è probabilmente forse il più odioso antipatico meschine meschino tra tutti i vizi capitali perché che cosa c'è di più piccino di un uomo che si rode nell'invidia che a seconda questa bassissima passione che può aggiungere addirittura a alimentare l'odio e quindi quando raggiunge queste estreme contraria soltanto non solo alla giustizia ma anche alla stessa carità e attenzione questo è anche il prossimo vizio che vedremo a suo tempo cioè la cilia sono caratterizzata in modo particolare da una brutta passione che è la tristezza perché la tristezza perché l'invidia consiste proprio principalmente e precisamente nel rattristarsi per il bene altrui materiale o spirituale che è percepito come male proprio o come più grande del proprio la persona invidiosa è triste e ha quella forma di tristezza brutta perché si rattrista della prosperità e delle cose belle degli altri perché le vorrebbe per sé quindi la possiamo immaginare l'invidia non solo in questa dimensione ma c'è un altro tentacolo che è speculare quindi mentre si rattrista di fronte a un bene una qualità o un successo dell'altra o specularmente si rallegra dinanzi ad un male a un fallimento o a un difetto dell'altro quindi gode del male altrui bruttissima questa cosa si rattrista del bene altrui concepito come male concepito e percepito come male proprio meglio si rallegra del male altrui percepito come bene proprio cioè se gli altri soffrono io godo brutto eh e quindi dal che comprendiamo quanto sia difficile anzitutto ammettere a noi stessi qualora lo fossimo di essere invidioso o proprio se non siamo viziosi incalliti in questo senso però di aver commesso un atto di invidia no? un pensiero di invidia come tutti quanti i vizi capitali attenzione che l'invidia l'abbiamo già visto tende a camuffarsi o addirittura a volte proprio celarsi sotto le spoglie di presunta o supposta virtù allora pensiamo per esempio al caso dell'uccisione di Gesù Cristo cosa si legge nei Vangeli sapevano bene Pilato sapeva bene che glielo avevano consegnato per invidia e se ne era accorto un pagano è tra l'altro neanche tanto virtuoso a quello che è poco che si sa dalle fonti quindi certamente sapeva fare il magistrato altrimenti non poteva fare il procuratore quindi cioè una sorta di proconsole della 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 provincia però non era che era tuttanto questa cima di di virtù attenzione però qual era lo specioso pretesto che si erano auto creati i capi del Sinedrio i farisei eccetera eccetera questo è un falso profeta quindi noi dobbiamo eliminare il falso profeta il bestemmiatore il sobbillatore no? su questo dobbiamo fare non attenzione amici miei quelli ci avranno pensato che in realtà l'unica cosa che provocava il loro nostro signore è che si rodevano di invidia perché? perché lui era santo e loro no perché lui era seguito ed ascoltato e loro no perché lui era capace di prodigare di fare tanto bene e loro no guardate che tutto qui è cioè Gesù Cristo non è stato ucciso materialmente parlando per motivazioni così tanto nobili è chiaro che dietro questo tutti quanti lo sappiamo no? cioè nel disegno divino che Gesù doveva morire e morire malamente per compiere la redenzione prendere su di sé i peccati di tutto il mondo espiare i peccati di tutti quanti gli uomini offrire al Padre una riparazione perfetta questo lo sappiamo ma da un punto di vista contingente quindi di quello che accadeva sono invidia invidia di cui si parla in una saga scrittura per esempio di questa invidia perché l'invidia che patì Gesù è il peccato contro lo Spirito Santo perché l'invidia della grazia altrui Gesù non c'aveva che cosa vuoi invidia? Gesù non c'aveva niente non c'aveva quindi non aveva beni materiali e attenzione pur essendo la sapienza stessa ma Gesù umanamente parlando non aveva titoli attenzione non aveva titoli non aveva né titoli di elevati studi perché faceva il falegname e per chi crede agli scritti di Maria Valtorta addirittura anche questo è un particolare che dovrebbe generare sane riflessioni nei genitori cattolici la Madonna fu l'unica volta che si oppose a San Giuseppe San Giuseppe quando Gesù cominciò ad avere presumibilmente forse 6-7 anni da quello che si capisce proposta la Madonna dice dobbiamo trovargli una bella scuola e la Madonna disse no Giuseppe Gesù non andrà a scuola ci penso io a lui alla sua educazione alla sua istruzione motivando il fatto che a scuola avrebbe potuto corrompersi attenzione ai tempi di Giuseppe e di Maria in un contesto fortemente religioso come era quello della fede del popolo di Israele dell'antica alleanza e pensiamoci a questa cosa per chi ci crede la Madonna addirittura non ha mandato Gesù a scuola insegnandoglielo lui quindi ha fatto la prima homeschooling ecco è la verità per non far corrompere Gesù ma Gesù amici cioè Gesù capiamo no quindi Gesù non aveva titoli perché se gli ha fatto scuola la Madonna ma che titoli vuoi che aveva nessuno era falegname nessuno è certo che non è andato a nessuna scuola rabbinica altrimenti lo avrebbero immediatamente riconosciuto lui si è presentato così dal nulla tant'è vero che lo sappiamo no a Nazareth ma forse anche non sono a Nazareth che gli dicevano dice ma ma questo figlio del falegname che si mette a fare dall'oggi al domani si mette a dire che questa parola di Isaia si è compiuta oggi ma dico ma ma stiamo scherzando che è sta roba torna nella bottega e mette a fare qualche tavola qualche sedia che ti pensi di essere di essere chi chi ti pensi di essere ecco poi però Gesù comincia la vita pubblica quindi predicava cacciava i demoni faceva i miracoli folle oceani che pendevano dalle sue labbra presumibilmente scrivi i farisei and company per i loro schemi rigidi Gesù ne parla nel Vangelo avete annullato la parola di Dio per la vostra tradizione non incontravano altrettanto favore e successo quindi perché è morto Gesù secondo capitolo del libro della sapienza no possiamo leggere qualche piccolo passaggio perché questo tratteggia in maniera plastica è assai precisa le modalità caratteristiche di questo odioso vizio e peraltro le conseguenze nefaste nefaste a cui porta in questo capitolo 2 del libro della sapienza si vede in maniera abbastanza chiara una sorta di prequel quindi di storia anticipata di quel che accadde in quei tragici giovedì e venerdì di due millenni orsoro orsoro andiamo a vedere questo libro questo capitolo gli empi prima cominciano a dire mangiamo beviamo siamo nati per caso la prima parte quindi il nostro nome sarà dimenticato quindi godiamoci bene i presenti e facciamo uso delle creature con ardore giovanile inebriamoci di vino squisito e di profumi e non lasciamoci sfuggire il fiore della primavera eccetera eccetera spadroneggiamo sul giusto povero la nostra forza sia eccetera eccetera e poi a un certo punto però tendiamo insidie al giusto attenzione perché c'è di imbarazzo e contrario alle nostre azioni ci rimprovera la trasgressione della legge e ci rinfaccia le mancanze contro l'educazione che hanno ricevuto vedete Gesù sotto questo punto di vista si è perfettamente inserito nella grande tradizione profetica israelitica tanto è vero che lui mostra chiaramente nel Vangelo di voler dare compimento tra le tante profezie anche a quella che fu fatta a suo tempo a Mosè siccome gli israeliti ogni tanto si mettevano paura del fatto che Mosè comunque si doveva avere il volto che stava alla presenza del Dio oppure si mettevano paura delle grandi teofanie pensiamo a tutto quello che è successo alla rivelazione dei dieci comandamenti tuoni fulmini terra che tremava forte rumore di tromba insomma questi erano terrorizzati allora dicono al Signore dicono ma non si potrebbe evitare e lì ci fu la famosa profezia succederò un profeta pari a me a lui darete ascolto e Gesù si inserisce in questa tradizione profetica chi è il profeta il profeta è uno che ha un compito in grado la settimana scorsa in qualche modo siamo riusciti a celebrare in maniera un po' difficoltosa perché c'era la coincidenza di questa peste con il Sacro Cuore la nascita di San Giovanni Battista San Giovanni Battista è proprio come è il culmine nella sua persona lui rappresenta il culmine la sintesi tutta la profezia vetro vetro testamentari che cosa fa il profeta il profeta fa quello che dicono che dicono qui gli empi è contrario alle nostre azioni anzitutto parla con la vita ma parla anche con le parole perché ci rimprovera le trasgressioni della legge e ci rinfaccia le mancanze contro l'educazione da noi ricevuta è diventato per noi una condanna dei nostri sentimenti c'è insopportabile solo al vederlo prosegue versetto 2 14 e poi perché la sua vita è diversa da quella degli altri e del tutto diverse sono le sue strade overissimo quindi il profeta questo compito è in grado perché il profeta serve a suscitare nel popolo di Dio la coscienza del peccato è per questo che rimprovera le trasgressioni della legge e rinfaccia le mancanze la storia della salvezza è storia di salvezza dai peccati il nome Gesù significa Yahweh Sampa ma perché oggi che c'è un appiattimento proprio veramente orrido su un cristianesimo che è diventato insomma una sorta di umanesimo non tanto differente da altri umanesimi che non hanno niente di soprannaturale questa è una caricatura del cristianesimo non è cristianesimo quindi dentro questo orizzonte il senso del peccato è sparito e quindi immaginate oggi se qualcuno si mette a fare come suo dovere specialmente per noi ministri il profeta cioè il Giovanni Battista ma anche il Gesù di turno il parroco va bene fino a quando non comincia a fare questo perché se poi comincia a fare questo il parroco non va più bene allora gli empi invocano su di sé la morte con gesti e parole ritenendole a cominciava nel capitolo primo nel versetto 16 ritenendo l'amica si consumano per essa e con essa concludono alleanza perché sono degni di appartenerla e dicono fra sé ragionando la nostra vita è breve e triste non c'è rimedio quando l'uomo muore non si conosce nessuno che ci liberi dagli inferi siamo nati per caso e dopo saremo come se non fossimo stati una volta spenta la vita il corpo diventerà cenere e lo spirito si disseperà come aria leggera sto leggendo un pochino di prego adesso vorrei commentarlo perché guardate che questa è lo vediamo oggi proprio compiuto sotto gli occhi tutti i giorni il nostro nome sarà dimenticato con il tempo e nessuno si ricorderà delle nostre opere su godiamoci bene i presenti facciamoci facciamo uso delle creature con ardore giovanile ne abbiamoci di vito lasciamo dunque i segni della nostra gioia perché questo si spetta la nostra forza sia regola della giustizia e poi tendiamo in serie il giusto eccetera eccetera oggi veramente è impressionante quanta gente pensa così la nostra vita è breve e triste quando l'uomo muore muore siamo nati per caso questa storia del per caso oggi sono tutti quanti fanno tutti quanti gli intelligentoni gli acculturati poi il per caso è proprio l'attestazione della stupidità congenita perché nulla delle cose ordinate e belle viene dal caso e dopo saremmo come se non fossimo stati una volta spenta la vita il corpo diventerà cenere anzi oggi il corpo lo fanno diventare cenere molto presto perché continua anche questo ad essere molto praticata anche tra i cristiani la cremazione che di per sé anche se adesso le esegue sono consentite dalla legge attuale della chiesa a chi opta per questa cosa purché non lo faccia in sfregio al dogma della risurrezione della carne non è certamente come ha spiegato l'istruzione del cardinal Muller il conto firmato dal Papa del 2014 non è certamente la modalità di sepoltura ideale per un cristiano perché noi ci siamo aumentati i cimiteri perché crediamo nella risurrezione della carne la seconda parte del capitolo 2 è proprio la storia del giubile del venerdì santo vediamo 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 se le sue parole sono vere proviamo ciò che gli accadrà se il giusto è figlio di Dio e gli rassisterà e lo libererà dalle mani dei suoi avversari mettiamolo alla prova con insulti e tormenti per conoscere la mirezza del suo carattere e assaggiare la sua insegnazione condanniamolo a una morte infame perché secondo le sue parole il soccorso gli verrà il capitolo 2 conclude tuttavia con queste parole la pensano così ma si sbagliano la loro malizia li ha accecati non conoscono i segreti di Dio non sperano salario per la santità noi lo speriamo e come e ne credono alla ricompensa delle anime pure noi lo speriamo e come perché essere santi ed essere puri c'ha un salario da parte dell'altissimo non solo nell'altra vita ma anche in questo anche in questa i figli di Dio non sono mai tristi tristi mai a volte sono addolorati ne ho parlato in altre circostanze tra la beatitudine evangelica dei beati quelli che sono nel pianto o beati gli afflitti e il vizio capitale dell'invidia è ovvio che ci sta un abisso gli afflitti secondo il Vangelo non si affliggono per il bene altrui ma si affliggono per il male altrui questo poi diventa misericordia percepito come male proprio cioè se una persona sta male soprattutto del grande male quindi se una persona che sta nel peccato o sta uscendo sembra che stia uscendo dalla volontà di Dio che non stia camminando come Dio comanda questo un prete dovrebbe averlo evidentemente più ancora vivo che è un fedele laico ma tutti dovremmo averlo ma ha doloro mi ha doloro offro a Dio questo dolore questo è un dolore santo è un dolore da da fare nostro da lasciare che ci prenda non accantonarlo molte volte noi quando vediamo qualcuno che sta camminando per vie non buone che ve lo dico anche da sacerdote abbiamo delle possibilità dei margini molto molto ristretti molto molto limitati e come muoviamo come dire la grazia di Dio a toccare e bussare quel cuore attraverso la preghiera attraverso il sacrificio ma anche attraverso questo dolore sconosciuto magari no? perché le persone verso cui proviamo questi sentimenti belli nobili molte volte neanche lo sanno ora ecco andiamo adesso a vedere un pochino nel nel dettaglio quali sono concretamente le forme dell'invidia qui San Paolo ricorre di nuovo all'immagine dei figli no? cosa fa l'invidia come si riconosce quando lo vediamo un figlio allora capiamo cosa fa l'invidia della grazia altruo cinque sono le figlie dell'invidia l'odio di Dio la detrazione del prossimo la mormorazione che sono due cose diverse e l'esultanza per le avversità degli altri nonché la forma speculare della trast per gli altrui successi ora l'invidia della grazia altrui abbiamo già accennato secondo la tradizione cattolica è una delle sei forme che può assumere il cosiddetto peccato contro lo spirito santo di cui Gesù in Evangelio afferma la non perdonabilità e remessibilità né in questa né nell'altra vita l'invidia della grazia altrui evidentemente mettiamo il bitole è un comportamento ben diverso dall'invidia santa c'è un'invidia santa cioè io vedo un santo e non è che lo invidio nel senso che ma guarda questo è santo possa diventare il più grande peccatore del mondo no lo vedo lo riconosco e cerco di prendere esempi sia dai santi presunti che noi magari pensiamo di conoscere sia soprattutto dai santi canonizzati che il Signore li ha lasciati a noi anche come esempi e anche come stimoli perché attraverso il loro esempio possiamo per quanto possibile imitare le loro stesse virtù il loro zelo il loro egoismo ecco o invece se chiaramente invece l'invidia che abbiamo visto provata nei confronti di Gesù non è l'invidia santa è l'invidia di chi non sopporta il santo perché è contrario alle proporzioni perché dà il buon esempio e quindi cercherà di ucciderlo prequel dell'invidia allora dell'invidia della grazia altrui qual è il grande prequel o meglio il primo episodio Abele assassinato da Caino se uno legge il libro della Genesi Caino assassinò Abele perché? perché Dio aveva chiesto a entrambi di offrire un sacrificio Dio gradisce al sacrificio di Abele e non gradisce al sacrificio di Caino Caino lo viene a sapere diventa una belva e la ammazza bella bella storia no? il peccato di Caino l'invidia della grazia altrui anche il peccato per esempio dei figli di Giacobbe nei confronti di Giuseppe quando vendettero a una carovana di Beduini insomma Giuseppe però addirittura volevano ammazzarlo perché lo chiamavano il sognatore questo è l'amichetto di Dio quello che viene a farci sempre le storie le robe togliamolo di mezzo ecco un'altra forma di invidia della grazia altrui quindi questa forma di invidia è che uno dei peccati contro lo Spirito Santo è certamente una forma di chiusura irreversibile alla grazia in quanto distrugge uno dei canali dei quali il Signore si serve principalmente per muoverci a conversione come fa a muoverci a conversione il Signore attraverso l'esempio e la parola dei suoi servi e dei suoi amici esempio e parola chi dinanzi a tale dono si irrigidisce odiando il giusto solo perché dice e opera la verità che cosa fa si autoesclude inesorabilmente dal circuito di salvezza inescatto dalla grazia e tra l'altro si condanna ad un indurimento del cuore che è potenzialmente irreversibile ed è ordinariamente orientata all'eliminazione di chi ha come unica colpa quella di voler servire e glorificare Dio quindi con questo peccato insegna Sant'Omaso d'Aquino si perpetra a ben considerare un tentativo di distruzione della gloria di Dio che è massimamente esaltata e manifestata nella vita luminosa dei santi quindi stiamo alla larga come dalla peste bubonica da questo qui questo è un fatto molto molto grave poi abbiamo l'odio di Dio e questa fu l'invidia di Lucifero allora l'odio di Dio che significa? Significa percepire Dio come male proprio a causa di cosa? a causa della sua straordinaria raggiungibile grandezza io vorrei essere come Dio ma non ci arriverò mai e siccome Dio è infinitamente più grande di me allora io lo odio quindi questo è proprio il peccato luciferiano e demoniaco più stretto nel terro è chiaro che noi abbiamo anche adesso dopo l'incarnazione e la redenzione riferimento del Dio fatto uomo cioè di Gesù con il quale dobbiamo confrontarci quando si ribellarono gli angeli per invidia al cielo successe il finimondo il finimondo scoppiò una guerra del cielo si dice il libro dell'Apocalisse hanno resistito a questa massa travolgente San Michele e i suoi e quelli schierati dalla parte con lui ma molti sono caduti molti ora chi è che rischia di incorrere in questo peccato quindi l'invidia della sua eccelsa grandezza e l'impossibilità di poter competere e ottenere destra tale grandezza anche dal più grande e luminoso degli angeli qual era Lucifero prima della caduta prima che venisse la Madonna sulla terra come dire il primo dopo Dio era stato anche se poi era ricaduto Lucifero ora tutti coloro che si ribellano a Dio a causa delle esigenze della sua legge oppure che cercano di farsi una propria fede a propria immagine e a propria somiglianza incorrono in questo grave peccato perché perché attraverso questa caricatura tengono a distruggere completamente sia la santa fede divina e cattolica ma sia l'idea stessa di Dio nelle menti e nei cuori delle persone quindi attenzione all'odio di Dio percepito come male proprio è chiaro che noi comuni mortali questa cosa appare in forme molto molto più velate molto molto più sottili però bisogna imparare anche su questo a fare l'esame di coscienza soprattutto vedendo e interrogando come noi trattiamo gli inviati dell'altissimo nella nostra vita perché quello è una spia di questo punto quando l'invidia invece colpisce il prossimo quindi sia essa spirituale per esempio l'invidia della grazia e anche della santità altrui o morale per esempio si invidia la posizione sociale le doti di intelligenza di qualcuno quindi a quello è colto quello è istruito c'ha due lauree io invece non ce n'ho messo una o ce n'ho una sola e cose del genere insomma allora attenzione o materiale ovviamente no? si invidia la bellezza si invidia il denaro si invidiano i beni altrui le possibilità no? che uno ha di i beni la macchina la moto che ne so la casa ora attenzione quando si entra in questa logica cosa fa l'invidioso? l'invidioso parla e parla male quindi cade nel nel vizio nel peccato della detrazione cioè il tentativo di distruggere la gloria o semplicemente la buona fama altrui o con la maldicenza attenzione o con la critica o seminando zizzania oppure con la calunnia vediamo ciascuna di queste quattro tipologie cosa significa con la maldicenza si ha maldicenza quando si diffondono difetti e malefatti altrui che non sono pubblici li so io o perché ne sono stato in privato testimone oculare o peggio ancora se mi sono state dette dal mio amico magari sotto sotto forma di segreto quindi non posso in nessun modo tradire una cosa del genere quindi diffondere malefatti e difetti altrui veri anche o presunti tali per questa differenza con la calunnia ma non pubblici oppure con la critica la critica si ha quando si diffondono senza giusta causa ovviamente difetti o vizi già manifesti oppure quarta altispecie seminando zizzani cosa significa e quella è la differenza tra il seminare zizzania e la detrazione o maldicenza perché chi semina zizzania sparla del prossimo sapete con chi con chi è amico di quel prossimo e ne parla allo scopo di screditarlo e di seminare tra lui e quell'amico discordia e amicizia questo perché sapete queste cose sembrerebbero un pochino infantili il mio miglior amico la mia miglior amica ma mica lo so se sono infantili infine tanto per abbiamo la calunnia calunnia che è anche un reato nel codice penale nell'ordinamento italiano in che cosa consiste la calunnia nel diffondere difetti o malefatte totalmente inesistenti totalmente o fondamentalmente inesistenti e inventare ecco attenzione San Francesco d'Assisi era severissimo con questa materia perché come ben sappiamo la vita che San Francesco portò nella chiesa non era soltanto una grande vita apostolica e di preghiere e di venidenza ma era anche vita comunitaria per cui se lui sentiva una detrazione gratuita prendeva provvedimenti molto molto gravi San Francesco cacciava i frati dall'ordine che sapeva che c'era qualche frate detrattore questi distruggono completamente ogni possibilità di comunione e di concordia quindi comprendiamo come questo vizio e andiamo già verso la conclusione è contrario non solo la giustizia come abbiamo accennato ma anche la carità e come con questo peccato si distrugge completamente la concordia e la comunione altro non ci si potrebbe evidentemente aspettare dalle figlie di un vizio che appunto come detto all'inizio è formalmente opposto e contrario quanto meno alla virtù cardinale della giustizia ma sovente e non dirato all'aurea e adorabile virtù teologale della carità e ricordiamo sempre che l'invidia è tanto simile al peccato che causò la ribellione degli angeli decaduti ma attenzione anche il peccato originale non voglio poi riferimento ad altri cicli di catechesi quindi l'invidia consiste nel desiderare di prendere per sé ciò che non è nostro e il peccato originale è stato proprio quello prendere per sé ciò che non doveva essere per sé ciò che non doveva dagli uomini essere conosciuto quindi attenzione ecco attenzione ai vizi spirituali questo è un vizio completamente spirituale quindi anche quando il suo oggetto sono magari beni altrui quindi uno magari un pochino più facilitato a discernere eventuali atti o forme di invidia però attenzione attenzione perché qui trattandosi di cose spirituali la nostra laffinatezza deve essere provata dobbiamo chiedere aiuto al Signore per verificare se la la bava brutta di questo vizio non ci abbia in qualche modo sporcato anche minimo in modo tale che ricorrendo alla confessione quanto prima ci rimettiamo in carreggiata non nell'invidia ma nella pratica gioiosa della virtù teologale della carità e della virtù cardinale della giustizia bene amici ci vediamo se ti vuole alla prossima puntata dove cominceremo la bellissima virtù cardinale della fortezza una santa notte a tutti e che Dio vi benedica e la Madonna sempre vi protegga